Luca Mazzocchi Lanesia Re aquela dané Sono Carolina Crescentini, e sono la madrina della trentasettesima edizione del Torino Film Festival. Volevo dirvi che io non lo so proprio, quello che fa una madrina, quindi io sono qui, in queste di amica, perché sono venuta tante volte qui. Sono venuta con una delegazione di un film in concorso, sono venuta fuori concorso e ho avuto anche il grande onore di essere qui in giuria. Ho visto più volte i film qui e la cosa speciale, secondo me, del Torino Film Festival è la qualità dei film, perché sono tutti film piccoli, grandi, coraggiosi, necessari. E qui anche i piccoli film senza distribuzione possono trovare la loro strada e questo è il vero compito di un festival. E c'è un'altra cosa che colpisce qui, le sale piene sono sempre piene e dobbiamo ringraziare tutte le persone che si accreditano, prendono i biglietti per vedere i nostri film, perché senza di loro i nostri film non hanno alcun senso. Ho saputo anche che c'è gente che si prende le ferie per poter partecipare al festival e quindi a nome di tutti i lavoratori dello spettacolo io voglio dirvi grazie, perché abbiamo bisogno di voi, davvero. Ora noi siamo qui perché questa è la serata di chiusura e quindi dobbiamo proprio sapere come è andata a finire questa selezione, questo concorso. Per iniziare io devo chiamare delle persone, le prime persone che chiamerò sono il presidente e il direttore del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano. Non vedo nulla perché ho dei puntati ma spero che stiano arrivando. Buonasera, è un piacere. In effetti non si vede nulla. Non si vede nulla, però è interessante. Lei sarà abituata. Beh io di solito faccio un lavoro in cui vengo spiata, quindi forse più o meno ci siamo. Bene, complimenti, grazie di essere qua nella Vesta di Madrina, questo ci rende particolarmente orgogliosi. E anche grazie per le cose che ha detto, che sono le cose che noi pensiamo del festival. Questo festival ha una sua specificità, che chiaramente non abbiamo nessuna intenzione di cambiare. Quella direzione è la cosa che permette a questo festival di avere grande successo e così faremo e così continueremo nella tradizione e nel posizionamento di questo festival nell'ambito di tutti i festival internazionali. Assolutamente concordo. Credo che le due parole chiave del festival siano tradizione da una parte, cioè l'identità e lo spirito del festival, che sono chiare a tutti, e poi l'innovazione, cioè la ricerca dei giovani talenti, che sono la cosa più importante per quanto riguarda il rinnovamento del cinema. Esattamente, grazie mille. Prego. Allora, vogliamo entrare nel vivo? Per entrare nel vivo noi abbiamo bisogno del direttore del festival, Emanuela Martini. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti, grazie di essere qui, grazie di essere stati qui, a molti di voi comunque, in questa sala e nelle altre sale, tanto numerosi e per tanti giorni, nonostante il maltempo. Per prima cosa, completo i ringraziamenti, ringraziando appunto tutti coloro che hanno consentito ancora una volta che il Torino Film Festival si facesse. Perciò ringraziamo per il contributo il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale del Cinema e dell'Audiovisivo, la Regione Piemonte e la Città di Torino. Per il sostegno, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Main sponsor, Intesa San Paolo. Sponsor, Hamilton e Cuciterme. Main media partner, Rai. Vettore ufficiale, Air France. Auto ufficiale, Mazda. e poi tutti gli altri partner che vedete qua dietro di me sullo schermo. Vorrei anche salutare, che so presente in sala, noi non vediamo niente, come ha già detto Carolina, quindi. La Ministra dell'Innovazione, Paola Pisano. L'assessore regionale della cultura, Vittorio Appoggio. E l'assessore alla cultura del comune, Francesca Leone. Un ringraziamento, naturalmente, al Museo Nazionale del Cinema, che continua a sostenere il festival, a farci fare il festival. E un ringraziamento, ne nomino solo alcuni, due, ne nomino due, degli ospiti che sono stati con noi durante questi giorni. Barbara Steele, che è l'icona, è stata l'icona, dopo è stata l'icona dell'horror, è stata l'icona del 37esimo Torino Film Festival. Carlo Verdone, naturalmente, il guest director di quest'anno. E grazie anche a tutti gli altri ospiti che sono passati da queste sale. E a questo punto dobbiamo cominciare subito con i premi. Dobbiamo iniziare perché è lunga. E partiamo subito con il premio progetto Torino Factory. Invito sul palco Fabio Geda e Rossella Schillaci per consegnare il premio. Buonasera. Eccoci. Buonasera. 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 E credo sia Fabio Geda che annuncia il vincitore. Sì. Allora. Buonasera a tutti. La giuria ha deciso che il premio progetto Torino Factory va ex sequo a Manuale di Storie del Cinema di Stefano D'Antuono e Bruno Uggioli e Selene di Sara Bianchi. Grazie. Scusate. Grazie. Quindi immagino che dobbiamo chiamare... Ok? Allora. Non si vede ma sono... Sono già qua. Fantastico. Ciao ragazzi. Allora. Manuale di Storie del Cinema con la seguente motivazione. Per la meticolosità della ricerca storica, per il tono ironico ma emotivamente carico che tiene insieme il racconto restando coerente fino all'ultimo fotogramma e ai saluti finali. Per il montaggio accurato che mantiene alto il ritmo dell'esposizione catturando con efficacia l'attenzione dello spettatore. Bravissimi. Invece per Selene con la seguente motivazione a Sara Bianchi perché la regista ha saputo raccontare in modo suggestivo una storia intima e dolorosa capace di emozionare con delicatezza e evocando il vissuto della protagonista con rapide ed eloquenti pennellate per la buona fotografia, la cura nelle inquadrature e l'uso narrativamente efficace del montaggio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Invito sul palco i giurati che poi hanno decretato il vincitore. I giurati sono i critici Maria Alberione e Sandro Avanzo e Alessandro Bolis di Cuciterme. e invito anche per la consegna poi del premio Francesco Varni, direttore generale e amministratore delegato di Cuciterme. Buonasera, allora la giuria ha deciso che il premio cinema d'acqua va ad Apollo 18 di Marco Renda. e la motivazione è la seguente per la capacità di celebrare il passato e parlare del presente vedendo nell'acqua un elemento di incontro, di comunicazione e di condivisione. Io ringrazio voi, è la prima volta che vengo, è un'emozione enorme, è un piccolo sogno per me, vi ringrazio, ringrazio Cuciterme, ringrazio Torino e Torino Film Festival. Grazie davvero. Grazie a voi, buonasera. E siamo arrivati al premio FIPRESCI, che è il premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica. Invito sul palco i giurati del premio FIPRESCI. Francesco Grieco, Italia, Diana Martirosian, Armenia, Heidi Strobel, Germania. Ciao, buonasera. E sarà Francesco Grieco ad annunciare la motivazione e annunciare poi il nome del vincitore. La leggerò in inglese. For its pretty plausible atmosphere and its realistic, tough-minded, comprehensible and atmospheric story, which was shot in a specific and peripheral place, the film raises the global issue about choice, freedom, responsibility and conservative conventions, which are also based on very simple and basic human needs and the basics of every society. Rivalry, being happy, being dominant. For outstanding and organic acting, strong and full-fledged screenplay, clear and straight global issues, The Rêve de Noura by Hinde Bougema wins the FIPRESCI prize of the 37th Torino Film Festival. Per l'atmosfera plausibile, la storia realistica e determinata, comprensibile e suggestiva, girata in un preciso luogo periferico, Il film solleva problemi universali sulla scelta, la libertà, la responsabilità e le convenzioni conservatrici che si fondano anche su semplici e primari bisogni umani e sono la base di ogni società, rivalità, ricerca dell'efficacità e predominio per la notevole e fluida recitazione, la potente e compiuta sceneggiatura e le tematiche universali chiaramente espresse. In De Bougema è stata qui per la presentazione del film, poi è ripartita e non è riuscita a ritornare. Grazie. Ora passiamo al premio Italiana Corti. Invitiamo i giurati sul palco che sono Elia Billoni, Monica Stambrini e Lucio Villani. Iniziamo con il premio speciale della giuria. Dico prima la motivazione o dico prima chi ha vinto? Diciamo la motivazione. Meglio prima la motivazione, sempre. Per la capacità di raccontare la vitalità di chi aspetta nonostante l'impossibilità di filmare vince il premio speciale della giuria La buca di Dario Fedele. Ritira il premio Dario Fedele. Sì, sì, volevo ringraziare Torino Film Festival per avermi ospitato e per il riconoscimento. Volevo ringraziare tutti quanti in sala e sono felice che le voci di queste persone siano riuscite ad arrivare fin qua. Grazie. Ora passiamo al premio per il miglior cortometraggio. Anzi tu. Ok. Graffiante e sofisticata riflessione sulla caducità del presente in relazione alla batteria della macchina da presa. Non spoiler, vedetelo. Vince il premio per il miglior film è in concorso cortometraggi italiani Spera Teresa di Damiano Giacomelli. La terra porta frutto ma Io resto qui a metà Spircio di là Tra un fettino su un paio Cerco nel fango un segno che Ritira il premio Damiano Giacomelli Complimenti Grazie Grazie Ma allora intanto complimenti per la selezione nei corti perché c'è una grande libertà e quando c'è quella capita abbastanza raramente è già un ottimo inizio. Io ringrazio le mie due famiglie che mi hanno permesso di far parte di questa libertà per cui quella di sangue diciamo e quella acquisita invece cinematografica che è offi cinematoli di cui fa parte Rebecca Liberati che da qualche parte starà che è la protagonista di questo corto e metà della targhetta diciamo la sua. Ok. Grazie. Grazie a te. E siamo arrivati al tradizionale premio Ciputi cioè il premio al miglior film sul mondo del lavoro tra tutti i film che sono stati proiettati al festival. I giurati del premio Ciputi sono Altan Francesco Tullio Altan Cosimo Torlo e Paolo Merighetti che ci ha salutato e non è presente questa sera. Invito qui Altan e Cosimo Torlo. E credo sia Cosimo Torlo che legge la motivazione e annuncia il premio. Allora la motivazione è la seguente il nome dopo hai detto sì allora perfetto un film che mette a confronto il regista mette a confronto nei suoi film le due facce del lavoro quella dura e sfinente di chi fatica ogni giorno a guadagnarsi da vivere e quella gratificante e sognata da chi avrebbe trovato la strada per la ricchezza. Così il figlio povero pescatore che torna a Taiwan dalla Cina dopo aver inseguito i miti del successo e del denaro diventa lo strumento di un confronto dove i sogni devono fare i conti con la realtà e le sirene del guadagno nascondono sconfitte e delusioni. Perciò la giuria del premio si punta ha deciso di premiare io non ci provo Hong Village di Langin Lin ritira il premio Langin Lin e consegna il premio al TAN grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e il festivo è molto sorprendente e l'onore di essere qui perché è il primo film prize che ho avuto in mia vita grazie a tutti grazie grazie ringrazio il Torino Film Festival ringrazio la giuria è davvero una sorpresa è un onore questo è il primo premio cinematografico che io ricevo il film ha richiesto cinque anni di lavorazione ed è stata davvero una lotta ma ne valsa una pena saluto i miei amici a casa e li invito a continuare a usare la loro voce e a lottare per la libertà passiamo al premio italiana doc invitiamo la giuria qui composta da Eleonora Mastropietro Pippo Mezzapesa e Annina Wetstein Annuncia il premio speciale della giuria Pippo Mezzapesa Allora un racconto di formazione all'interno di un universo chiuso capace di condensare forza visiva delicatezza e paradosso il premio speciale della giuria va all'apprendistato di Davide Maldi noi ci baciamo signori grazie insomma fa piacere intanto ringrazio la giuria per questo premio questo film è stato possibile solo grazie a quel ragazzo che si è intravisto poco fa e alla scuola l'istituto Mellerio Rosmini di Tomodossola quindi insomma il primo ringraziamento va a loro oltre alla piccola troupe che mi ha aiutato a fare questo piccolo film e passiamo al premio per il miglior documentario italiana annuncio il premio la giurata Elena Mastropieto per il coraggio e la freschezza con cui il regista realizza un racconto intimo rendendo il dramma della propria famiglia emblema di una crisi economica dilagante il miglior film di italiana doc è Fuori tutto di Gianluca Matarrese ritira il premio Gianluca Matarrese ecco la tanti ringraziamenti grazie ringrazio il festival di Torino che succede? non ti preoccupare no appunto tanti ringraziamenti il festival di Torino la giuria grazie mille è importantissimo fare questa prima mondiale del film qui a Torino perché è il luogo dove si svolgono i fatti ringrazio la regione Piemonte Film Commission che ha sostenuto il progetto da subito e ringrazio chi mi ha accompagnato in questa avventura quindi ringrazio Rosso Fuoco Film la produzione che Cristina Sardo che so che è lassù da qualche parte ed è sempre stata lassù Davide Ferraro Francesca Bocca ringrazio Agathe Filme Ex Nilo le produzioni francesi France Television co-produttore francese c'è tantissima la cooperativa Togo il co-autore Nico Morabito tantissima gente da ringraziare ma soprattutto ringrazio loro mia mamma mio papà mia sorella mio cognato Nicolò mio nipotino Salome è il mio nipotino che sono i protagonisti del film quindi quando giravo questo film spesso mi sentivo impotente di fronte a quello che stava accadendo e mi dicevo questo film forse servirà a qualche cosa non so questo è l'unico modo per aiutarli ecco la gioia che abbiamo di condividere questo premio è la più bella vittoria grazie passiamo a premio internazionale io direi di tenerci Gianluca Matarrese sul palco per animare la sera ma signori la madrina è lui sarebbe un'idea Gianluca si stai con noi dove sei se vuoi tornare siamo qua passiamo al premio internazionale doc allora chiamiamo la giuria Sara Frattai Eric Negro e Vladimir Perisic iniziamo con il premio speciale della giuria e verrà annunciato da Vladimir Perisic non sono con noi ma abbiamo un video mi risulta buongiorno a tutti on ci ha domandato di fare questa piccola video e prima di tutto è per noi un super modo di ringrazio di ringrazio ci siamo di partire di Turin in una settimana e non puo essere qui ma non è ma inizia veramente molto ringrazio e vi ringrazio enormemente l'equipe del festival e il jury per questo premio che ci ha di cercare è un enorme encouragement per noi per questo film è molto fragile e che è tutto frae per noi che è veramente on è ancora vivendo la fase finale del film e tutto va molto bene con questo è veramente super per noi è veramente molto molto è molto e passiamo al premio per il miglior documentario di internazionale doc che verrà annunciato da Sara Fattai un'umile osservazione dei cambiamenti di spazio e tempo con Malika e lo sguardo del regista ci tuffiamo in un imprevedibile viaggio socio-politico attraverso sul cuore del deserto vince il premio per rispetto vince il premio per il miglior documentario di internazionale doc 143 rue du desert Hassan Farhani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a davide ci fa 4 anni è venuto me vedere per sélectionare dentro mia tera un po' di questo festival e 4 anni dopo siamo sempre qui in questo momento e anche la belle equipe del Torino Film Festival allora io volevo dire altre cose Paola grazie molto Séverine, Francesca grazie per l'accueil e e e questo prezzo io lo dedico a a diverse persone entre altre Malika che è la protagonista di mio film che che malgrate l'aridità e la difficoltà del deserto ha deciso di reicrire e reinventare il mondo in cui on vive oggi c'è anche un prezzo che va a tutti i detenuti d'opinion che sono oggi in prison in Algiria per aver osato dire che non erano d'accord con con lo che vi proposti oggi quindi io penso a loro molto forte oggi io le dedico questo prezzo e per finire una citazione di Frantz Fanon io ho provato perché è difficile con tutti i projecti ma un grande psichiatra e un grande anticolonialista che ha detto che ogni generazione deve trovare in una reale opacità la missione l'accomplire o la traire grazie 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 davvero alla giuria di essere stata sensibile a questa mia proposta cinematografica mi tocca moltissimo questo premio è un premio che sicuramente ricompensa lo sforzo di tutta la troupe e di tutti i realizzatori algerini e francesi che hanno partecipato alla produzione un grazie di cuore anche a Davide Oberto che mi è venuto a trovare quattro anni fa selezionando Don Mateta a Rompua e eccomi qui quattro anni dopo di nuovo al Trino Film Festival grazie anche a Paola Sedrina e Francesca siete stati veramente eccezionali nell'accoglienza che mi avete dedicato dedico il premio a Malika che è la protagonista del mio film e che ha saputo reinventare un luogo così torrido come il deserto facendone una dimora che rispecchia il mondo di oggi dedico questo premio a chi si è reso colpevole di un dilitto di opinione e oggi è nelle carceri algerine e vorrei concludere con una citazione di un famoso psichiatra che dice ogni generazione deve trovare la propria missione da compiere o da tradire e adesso entriamo nel concorso internazionale ai lungometraggi arriviamo a un premio importantissimo è il premio del pubblico per annunciare il premio del pubblico vogliamo invitare qui uno dei rappresentanti dei numerosi volontari che hanno aiutato nell'accoglienza del festival Andrea Rosso ne approfitto un attimo per ringraziare veramente moltissimi volontari che sono stati brevissimi anche a a risolvere alcune situazioni critiche grazie ancora il premio del pubblico miss white light depai schulberg grazie a tutti che non ci sono Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 I libri di sì che il pubblico è il pubblico. It's been the pubblico. Ok, so... ..la migliore attrice, che sarà annunciata da Eran Ricklis. Grazie, abbiamo trascorso veramente una settimana meravigliosa, è stato molto difficile scegliere in una selezione di opere tutte molto valide, io sono felice anche per il premio del pubblico che è sempre un premio assolutamente meritevole e il premio va alle due straordinarie interprete russe del film Dilda. Non sono riuscite a raggiungerci, perciò ritira il premio il distributore italiano di Dilda, cioè Stefano Iacono di Movies Inspired, che però non c'è e quindi è venuto Diego, che è il suo collaboratore. Buonasera a tutti, grazie. Passiamo al miglior attore Il miglior attore verrà annunciato da Bruce MacDonald Allora, buonasera, grazie mille. We are very pleased to announce for best actor, the jury has selected the wonderful film Il Grand Passo, Giuseppe Battison and Stefano Fresi. Congratulations. Ritira il premio il regista Antonio Padovano Ciao È un piacere portarvi i ringraziamenti dei miei due astronauti che non possono essere qui questa sera. Volevo ringraziare la giuria, ringraziare Emanuela per la splendida direzione del festival e anche chi ha reso possibile il film, Elisabetta Olmi, che c'è stata dal primo giorno con Ipotesi Cinema, Donatella Palermo con Stemma, Le Paolo del Brocco, Rai Cinema, che è lì tra voi. Grazie mille. Grazie a te. Siamo arrivati al premio Sandretto Re Rebaudengo, premio speciale della giuria e invito sul palco Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Buonasera, buonasera a tutti, innanzitutto grazie alla giuria per il vostro importante lavoro, un grazie a tutte le autorità, un grazie a Enzo Ghigo, presidente, e anche a Domenico De Gaetano, il direttore del Museo del Cinema, e un grazie speciale a te Emanuela. Un grazie per questo splendido festival, ma un grazie anche perché sei tu che ci hai coinvolto, hai coinvolto la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a voler partecipare, a voler essere presente e a vedere anche quali sono le affinità, i punti in comuni che ci sono fra il Torino Film Festival e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. La fondazione è un'istituzione no profit che da 24 anni lavora per sostenere i giovani artisti, per far conoscere i loro lavori, per presentarli nei nostri spazi, che anzi vi invito a visitare a Torino e a Guarene, ma proprio per questo mi sento vicina, perché come fa il Torino Film Festival, che noi guardiamo i giovani, guardiamo i talenti. Come ha detto la madrina prima, la forza, una delle tante forze di questo festival, è proprio quella di scoprire i talenti, di dare ai giovani la possibilità di farsi conoscere con le loro robe. E questo è davvero qualcosa di spettacolo, che credo che ci voglia un applauso per questo lavoro, che questo festival fa per i giovani, per i talenti. E poi, permettetemi ancora, io mi sento particolarmente vicina anche a questo festival, perché noi in fondazione presentiamo squadri, pittura, scultura, ma anche moltissimi film, moltissimi video. L'arte contemporanea è fatta anche da questo mezzo, dal film, dai video. E questo, ovviamente, ci ha portato a volere anche noi, per esempio, partecipare in un altro modo con il Torino Film Festival, con Onde, con una sezione che si chiama Artrum, e qui c'è Massimo Causo, che ringrazio, che ci permette di portare anche dei film fatti da artisti, qui, nelle sale, e quindi credo che sia una grande opportunità. Così come, mi permetto ancora e poi finisco, voglio ricordare, e mi fa piacere ricordare che Giovanni Troilo, che è un regista che ha presentato in questi giorni qua questo suo documentario su Frida Kahlo, in questi giorni anche nelle nostre sale, con delle sue fotografie. Quindi questo dimostra come davvero questi mondi siano vicini e questo credo sia davvero la cosa più bella. Quindi un grazie ancora per queste opportunità di collaborazione e chiudo dicendoti sei stata davvero grande, sei una grande direttore, direttrice, ci hai regalato delle grandi emozioni, grazie per il lavoro tuo di questi anni, speriamo davvero di averti ancora con noi, grazie per Cosa fai per Torino. Grazie a te. E adesso annunciamo il premio. Allora, il premio va a Le Rêve de Noura di Inde Bougema. Inde non è riuscita a ritornare come abbiamo già detto prima, però ci ha mandato un video. Che meraviglia, che gioia, che gioia. Grazie a tutti. Grazie al Torino Film Festival. Vorrei anche ringraziare i miei produttori che mi hanno sostenuto. Adesso ho ancora più voglia di raccontare altre storie, perché ci sono tante storie da raccontare ancora da noi. Sono felice, veramente. Grazie Torino, grazie. Grazie. E sono felice che sia una regista donna a ricevere il nostro premio. Grazie. Grazie. Ora, prima di lasciare la parola alla direttrice, io volevo ringraziare... per avermi voluto di nuovo qua. Perché oltre ad essere amica madrina, io a questo punto, se si può, ambisco a una sorta di ruolo di stalker del Festival di Torino, perché vorrei essere sempre qui, perché si sta davvero bene. E voglio ringraziare anche tutti voi, perché siete venuti in sala con grande amore, nonostante ci fossero duemila manifestazioni, un tempo incredibile, e questo ordigno inesploso, che sembra l'inizio di un film in cui gli eroi siete voi che riuscite lo stesso a andare in sala. Grazie, grazie mille. Grazie Carolina per la tua costante presenza al Torino Film Festival. Grazie. E a questo punto siamo arrivati al momento più importante, cioè l'annuncio del vincitore della 37esima edizione del Torino Film Festival, annuncio che viene fatto in contemporanea dalla Presidente Cristina Comencini e da Teona Strugar-Mitevska. Prego. Allora, il premio per il miglior film va a A White White Day di Ilnor Palmason. Ritira il premio il montatore Julius Krebs D'Amso. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te Emmanuel. Grazie a Torino. Grazie all'audizione. I'm going to celebrate with Juno next week in Copenhagen. It's just fantastic. Thank you. Thank you very much. Grazie. Questa è davvero una sorpresa enorme. Confermo che non si vede niente da qui. Ringrazio la giuria, ringrazio Emanuela, Torino e tutto il pubblico del Torino Film Festival. Festeggerò insieme ai Junor la settimana prossima quando mi raggiungerà a Copenhagen. Bene. A questo punto, prima cosa, vi voglio comunicare le date della 38esima edizione del Torino Film Festival che sarà dal 20 al 28 novembre del 2020. No, no, fate quello che vogliono. Io rimarrei se possibile. Vai. Ci devo una cosa. Vai. Grazie a lei. Poi proprio esclusivamente due parole. In questi giorni, in questo periodo, ma dappertutto, insomma, ho sentito molto parlare di eccellenze del territorio. Un discorso sacrosanto, giustissimo. Però io vorrei aggiungere un paio di eccellenze a questi temi. Cioè, secondo me, un'eccellenza del territorio qui è questo pubblico. E' stato rilevato, sottolineato da tutti quelli che sono saliti su questo palco. E' il pubblico che affolla le sale, non la sala degli addetti ai lavori, la sala stampa, ma le altre sale, che è un pubblico normale, diamanti del cinema, un pubblico trasversale. E questa è veramente un'eccellenza del territorio. E secondo me lo è anche questo festival, perché tra i grandi festival italiani resta comunque quello che è decisamente sempre votato alla scoperta, alla scommessa, alla scommessa su nuovi talenti, alla curiosità, all'innovazione e che fa scoperte e scommesse. E questo, per esempio, anche grazie alla collaborazione con il Torino Film Lab, che è nato come una costola del TFF. E questo anche grazie a tutte quante le persone che fanno questo festival, che a questo punto voglio invitare qui sul palco. Perciò partiamo. Invito con me. Silvia Saita e Ivisaliani, Stefania Albis, Francesca Barbagallo, Dario Cazzola, Piero Valetto, Alessi Uggiano, Jacopo Bertolini, Andrea Tamburini, Donata Pesenti, Maria Grazia Girotto, Bianca Girardi, Giovanna Lomonte, Sandra Giaracuni, Andrea Merlo, Veronica Geraci, Serena Santoro, Anita Brazzalotto, Chiara Rosaia, Alessia Naccarato, Laura Barillari, Esther Morelli, Irene Fontanelli, Silvia Fessia, Valerio Filardo, Simona Ceppa, Anna Ribotta, Gigliola Biglietti, Marina Spagnolo, Sang Eon Lee, Silvana Brunero, Stefano Boni, Stefania Carta, Stella Dania, Sonia Del Secco, Fabio Pezzetti Tonion, Marco Grifo, Anna Sperone, Michael Casale, Mara Dompeghe, Gail McDowell, Marco Petrilli, Alessandro Uccelli, Mariana Cappi, Leonardo Ferrante, Sabrina Mezzano, Paolo Bertuzzi, Elena Montaretto, Beatrice Agulli, Valeria Burzilla, Simona Carnino, Mario Galasso, Luciana Parato, Caterina Renzi, Lea Vidotto, Enzo Facente, Giulia Martini, Omar Bovenzi, Avedeo Berta, Rodica Patrugniel, Giorgia Bertino, Alessia Durante, Cristina Sardo, Davide Rossetto, Mauro Cornoletto, Luigi Avogadro, Fabio Berardino, Andrea Crivellaro, Matteo Florio Furno, Alberto Nota, Andrea Scucchia, Matteo Manornita, Paola Pasquero, Ivan Sigliato, Maurizio Buffa, Thomas De Forti, Valerio Bertacchini, Ivanchetta, Fabio Del Ricco, Fabio Colonna, Michelle Como, Antonella Carta, Sergio Geninatti, Tito Musera, Roberto Flamini, Silvia Martinis, Diego Borgazzi, Marco Gregorio, Federico Spoletti, Emanuele Tasselli, Filippo Ruffilli e tutta la squadra dei sottotitoli, Tatiana Muschiatti, Giulia Guasco, Mario Ruggero, Emanuela Peretti, Erika Paoletto, Fabio Marsili, Giovanni Marsili, Diego Perino, Gabriele Pedullà, Fabrizio Merlone, Massimiliano Rastello, Pierluigi Monaro, Claudio Solenne, Franco Saba, Luca Gianoglio, Guido Passi, Daniele Tinti e tutti i volontari e il direttore e il presidente del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano, Enzo Ghigo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!